Noi pensiamo che sia venuto il momento di raccontare il mondo attraverso i suoni delle cose. Ogni cosa è riconoscibile attraverso l'immagine che ha, però ha anche un suono caratteristico. Esiste la reale possibilità di raccontare il mondo attraverso i suoni. E così abbiamo creato Sounds of Things, che è di fatto un social network. Dentro Sounds of Things si comunica attraverso i sound emotion. Questi sound emotion sono dei contenuti che prediligono il suono. Lo mettono prima dell'immagine. L'immagine non scompare e alla fine svela quello che il suono comincia a raccontarti. A differenza dei video, che invece, soprattutto oggi con questi video ad altissima definizione, dove ricevi tutto e non partecipi. Noi abbiamo pensato invece di far partecipare di più le persone al contenuto che creano. Uno dei partner è Nica Selluschen, che ha raccontato il suono dell'energia con noi, e che è uno dei quali dà forza e potenza a tutta la campagna. Tutti i villaggi che oggi noi troviamo in app, che sono i luoghi dove i sound emotion prendono vita, sono tutti powered by Nica Selluschen. La può scaricare chiunque, ma la può installare solo chi ha il codice di registrazione, che gli dà un altro utente. Non è esclusiva, non escludiamo nessuno. Chi si avvicina e si interessa può scaricare l'app e registrarsi. E come si incontrano queste due entità, chi ha l'app e chi non ce l'ha? Attraverso un hashtag che noi abbiamo coniato, che è il SotRegistration.